Ciao a tutti, sono Mick Webb del forum e oggi vi farò vedere come possiamo fare un effetto tipo questo usando solo Cinema 4D, usando le particelle di Cinema 4D. Come vedete qui è un fumo abbastanza realistico. Premetto subito che una traduzione dell'autore originale di questo tutorial è Chris Schmidt di Grayscale Gorilla. Io ho pensato di fare una piccola traduzione veloce veloce, può essere utile. Questo è il mio primo tutorial che faccio, quindi scusate se non sono così preciso o l'accento è un po' strano. Ok, cosa facciamo? Prima cosa che facciamo, apriamo il nostro Cinema 4D, versione Mac R13, comunque i comandi sono più o meno sempre gli stessi. Ok, prima cosa che facciamo, andiamo su simulazione, andiamo a prenderci le nostre particelle, un emettitore di particelle. A questo punto creiamo un oggetto, un oggetto nullo, mettiamo le particelle, l'emettitore sotto l'oggetto nullo. A questo punto ci posizioniamo, ruotiamo l'oggetto nullo e quindi le particelle in modo così, ecco qui. Andiamo adesso sull'emettitore, sulle posizioni dell'emettitore. Quantità mettiamo 100, rendering di quantità anche 100, fine emissione mettiamo 180, fine scala mettiamo 25. Ok, poi adesso andiamo sull'emettitore, andiamo qui, sull'emettitore le particelle ridimensioniamo anche nel nostro emettitore così è troppo grande. Oddio, questi sono sempre valori che poi ognuno può mettere a suo piacimento. Io, come dicevo, faccio una traduzione del tutorial di Chris Smith, quindi metto qui 11, anche 11 con angolo orizzontale di 11. Vediamo qualsiasi posizioni che abbiamo creato. Ecco qui, queste sono le nostre particelle che genereranno il fumo dopo, ecco un po' così. Da queste particelle noi otterremo a noi il fumo che vi ho fatto vedere all'inizio. Ok, a questo punto cosa facciamo? Ci andiamo a preparare le particelle perché così se noi facciamo un rendering non si vede niente. Quindi dobbiamo segnare le particelle un materiale, o un oggetto in questo caso. In questo caso ci prendiamo un piano, lo posizioniamo sull'asse più Z, le misure facciamo 20 cm per 20. Ok, a questo punto andiamo su MoGraph, ci prendiamo un nostro oggetto clona, posizioniamo il piano sotto clona e adesso andiamo... Posizioniamo l'oggetto sotto clona, eccolo qui. Adesso andiamo sull'impostazione sul modo, in modo selezioniamo oggetto. A questo punto come oggetto ci scegliamo gli emettitori. Faccio un piccolo play, ecco. Questo sarà poi, diciamo, il nostro fumo. Se noi adesso, scherzo qui per renderizzare, adesso qui nella render si vedono le particelle. Ok. Però non è ancora realistico, ok. Una cosa alla volta, adesso andiamo avanti. A questo punto andiamo sempre su MoGraph, andiamo su effettuatori. e prendiamo l'effettuatore target, che è questo. Cosa fa il target? Il target si dà la possibilità di impostare le particelle, dandogli appunto un target, un obiettivo. Andiamo qui sull'opzione del modo di target, guarda la camera. Cosa succede? Quando noi mettiamo, guardiamo la camera, se io adesso giro, le particelle guardano sempre la camera, cioè non si spostano, cioè guardano sempre, si spostano a seconda della camera, ecco poche parola. Adesso faccio un renda, ecco qui. Andiamo, andando un po' più avanti. Eccolo qui. E' ancora molto lontano da un fumo realistico. Per renderlo adesso un attimino più reale, ci andiamo a creare un nuovo materiale. Un nuovo materiale. Apriamo il materiale. Il colore lo spuntiamo, non ci serve. Spuntiamo l'alpha. E spuntiamo la luminanza. Ok, adesso andiamo qui sull'alpha. Selezioniamo il tipo di texture e mettiamo un gradiente. Clicchiamo sopra gradiente. Qui è importante, con il tasto destro del mouse, inverti i nodi, perché non abbiamo bisogno dell'alpha, quindi del nero. Selezioniamo il tipo di gradiente. Mettiamo circolare. Qui la turbolenza. Sono valori che metto un po' a caso, poi questo lo potete fare voi, vedete voi. Metto un 37%, che già dà un po' senso di fumo. Anche qui la frequenza, qui sono valori che potete mettere comunque a caso. Ok, adesso vado a applicare la texture sulle particelle per dare un'idea di quello che stiamo facendo. Eccolo qui, già così. Abbiamo già un'impressione maggiore del fumo. Ecco, non è ancora finito. Però già, diciamo, è un fumo stilizzato. Ok, a questo punto cosa facciamo? Cosa facciamo a questo punto? Andiamo un attimo qui sul clona, che mi sono dimenticato prima di dirvelo. Sulle impostazioni generali, su oggetto, aumentiamo la scala. Così il fumo diventa un po' più consistente. Mettiamo pure anche al 100%. Questi sono, come dicevo, valori che ognuno può scegliere a caso. Faccio partire di nuovo. Ecco qui il fumo un po' più consistente. Eccolo qui. Dunque, a questo punto diamo un attimino un po' più di vita al fumo. Così è un po' noioso. Andiamo su simulazione. E ci prendiamo, sotto particelle, ci prendiamo turbolenza. Turbolenza. Andiamo a impostare un po' la turbolenza qui. La scala la mettiamo un po' più alta. Facciamo, non so, qui H. Questi sono i valori che potete scegliere sempre voi a caso. La forza. Metterei un po' la forza. La metto, non so, mettiamo 6, 6 qualcosa, verso il 7. Cosa succede? Con la turbolenza il fumo adesso si sposta, si sposta verso destra, è un po' più realistico. Quindi per avere un'animazione del fumo, per rendere un attimino più realistica, ho usato la turbolenza con il valore della scala. Chiaro che possiamo anche utilizzare un altro effettatore, possiamo usare un attrattore, oppure rotazione, oppure anche il vento, a seconda di come vogliamo animare il video. Diciamo come vogliamo animare il fumo. Ok, per rendere ancora un po' più realistico, andiamo di nuovo sul materiale, spuntiamo qui, questo qui, immagine alfa, molto importante. Poi qui ci aggiungiamo un livello, clicchiamo sul livello, facciamo un sceda, sceda e poi andiamo su effetti, prossimale, prossimale. Poi qui facciamo già multiplo, andiamo sulle impostazioni del prossimale, ci clicchiamo sopra, ci clicchiamo sopra. A questo punto, distanza, sono valori sempre che poi voi potete scegliere. Qui metto un 500%, scusate, 500%. La funzione ci metto una cubica, dopo capirete anche perché. Cosa molto importante, qui su oggetti mi prendo il mio nullo, l'oggetto nullo, lo trascino qui. E adesso andiamo a vedere il nostro risultato. Come vedete qui il fumo ha perso un po' più di consistenza, un po' più realistico. E' già un fumo un po' più reale, ecco. Faccio un piccolo ren, eccolo qui, vediamo il fumo. Poche parole, il tutorial adesso è quasi finito. Qui potete poi giocare con le impostazioni delle particelle, potete ingrandire, cambiare, invece la turbulenza potete aggiungere il vento. Un'altra cosa che vi spiego, veloce veloce. Vogliamo dare...